12 conferme, 6 nuovi arrivi e 1200 abbonamenti venduti numero quest'ultimo sontuoso per la categoria. Ci arriva così ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D il Barletta, ci arriva da matricola ma anche con un organico già in grado di giocare per l'alta classifica nel terribile Girone H. Merito degli inesti top di Andrea Pette in difesa, Riccardo Lattanzio e Nicodalo Iodice in attacco, manca insomma il colpo da 90 in mezzo al campo. Per la verità stiamo aspettando, stiamo guardando un pochettino anche perché in questo momento ci sono giocatori che si devono accasare, giocatori che si devono ambientare, stiamo aspettando, ci stiamo guardando attorno. Non dovrebbe essere chiuso il nostro mercato, il direttore ha 50 problematiche, poste di giocatori ma noi preferiamo attendere come abbiamo fatto adesso per Petta di scegliere il giocatore giusto nel ruolo giusto. 12 conferme dunque, non per una questione di riconoscenza nei confronti di chi ha vinto il triplete, c'è la convinzione che tutti gli elementi a cui è stata rinnovata la fiducia possano far bene anche in Serie D. Tenuto conto che hanno fatto benissimo lo scorso anno, hanno distrutto praticamente il campionato e la Coppa, noi abbiamo vinto tutto quanto, significa che meritano tutti quanti una chance. È normale, il campionato è lungo, tra campionato e Coppa c'è bisogno di avere una rosa lunga. L'anno scorso avevamo una rosa risicata, tanto è vero che poi abbiamo dovuto prendere due giocatori in corso d'opera. Questa volta stiamo cercando di avere una rosa lunga in maniera da mettere a disposizione al mister Farino una macchina da guerra. Il Barletta, secondo le ambizioni della dirigenza, non può arrivare tra le prime cinque, deve arrivare tra le prime cinque. Il Barletta deve arrivare tra le prime cinque. Il Barletta, diciamo, si sta giocando la società ha tanto entusiasmo, intorno c'è tanto entusiasmo, quindi noi dobbiamo arrivare tra le prime cinque.